ciao benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a parlare di alterazioni in chiave negli scorsi video abbiamo parlato di scala maggiore avevamo visto quella di do che non ha alterazioni in chiave nel momento in cui io devo andare a suonare le posizioni ad esempio altro video che ho fatto da poco dobbiamo andare a sapere la mia scala maggiore quali alterazioni in chiave ha quindi andiamo a cercare di chiarire un pochettino di dubbi e poi l'invito è sempre quello a metterti lì e provare e provare e provare quindi praticamente il discorso è così noi abbiamo le scale maggiori che a parte do che non ha alterazioni in chiave hanno sempre delle alterazioni queste alterazioni possono essere o diesis o bemolli non c'è scala maggiore che assi a diesis che bemolli le scale nelle scale l'importante è sapere l'ordine appunto di questi diesis e bemolli ed io ti spiegherò un metodo un trucchetto ci sono tantissimi modi per memorizzare per studiare memoria o per saperli quello che utilizzo io va a sfruttare appunto il basso elettrico perché perché quando suoniamo ce l'abbiamo sempre lì sotto mano quindi io butto l'occhio e riesco grazie alle geometrie riesco a grazie scusami alle geometrie appunto della della cordatura del basso ad andarmi a trovare l'ordine dei diesis o dei bemolli posso anche utilizzare il circolo delle quinte ad esempio o altri modi secondo me questo è molto veloce l'ordine dei diesis e per quinte che può essere una cosa così allora è fa do sol re la mi e si ok per quinte perché perché dal fa al do ci sono cinque note fa sol la si do dal do al sol altre cinque note do re mi fa sol e così via quindi quest'ordine dei diesis è appunto fatto così noi sul basso abbiamo il fa al tasto uno della corda di mi ok da qua andiamo a costruire una sorta di saetta fulmine che è facilmente memorizzabile e soprattutto io lo guardo e riesco subito a a trovarmi le note so che parto dal fa il mio ordine andrà a fare fa do sol re la mi e si riesce a vedere l'ordine appunto fa vado in giù di due tasti una corda quindi vado in diagonale do torno su di una vado a prendere il sol che è sempre la sua quinta ma viene presa un'ottava bassa qua è proprio importante di più la la cosa geometrica per adesso fado sol poi vado di nuovo due tasti una corda re salgo su di una la di nuovo mi e si questo qua è l'ordine dei diesis mentre l'ordine dei bemolli parte dalla fine dei diesis quindi dal si e torna indietro quindi il la saetta al contrario l'ordine dei bemolli è un ordine che si dice per quarte perché dal si al mi si do re mi ci sono quattro note quindi si mi in questo caso salgo scendo dipende da che lato della chitarra guardi sempre tasto sette ma scendo di una corda si mi la re sol do e fa questo qua è l'ordine dei miei bemolli perché è tanto importante l'ordine perché quando vado a scrivere chiave di basso sono in re maggiore io devo scrivere i diesis in quest'ordine cioè se i diesis appunto di do maggiore poi vedremo che sono due io so già che questi due diesis partono dal fa e sono due fa e do io devo seguire la saetta se i diesis fossero stati quattro in un'altra tonalità i miei diesis erano fa do sol e re qui sarei stato in mi maggiore dopo vediamo il perché stessa cosa nei bemolli se io ho una scala con tre bemolli che è quella di mi bemolle maggiore i miei bemolli devono essere assolutamente sì mi è la sì mi è la quindi la saetta parto dal contrario quindi quella dei bemolli che ti ho fatto vedere prima e torno indietro se ho tre bemolli in chiave saranno sicuramente questi e sono da scrivere sulla pentagramma proprio nell'ordine da sinistra verso destra seguendo questo quest'ordine allora adesso andiamo a capire quali scale hanno i diesis e quali scale hanno i bemolli anche qua facciamo poi degli esempi per perché così la è la cosa migliore secondo me poi per capire comunque le scale con i diesis sono le scale di sol re la mi si fa diesis ok quelle più utilizzate mentre le scale coi bemolli sono si bemolle mi bemolle la bemolle re bemolle sol bemolle che sono le più utilizzate e anche il fa allora andiamo a notare qualcosa guardando queste quelle quei diesis quel coi bemolli quelle quei diesis a parte quella di do che non ha nulla e a parte il fa che è nei bemolli tutte quelle che nel nome non hanno un'alterazione in chiave diesis o bemolle hanno poi il diesis quindi quella di sol re la mi e si se nel nome ha già un'alterazione in chiave quindi un diesis ho detto la scale di fa diesis maggiore fa diesis nel nome ha già il diesis e quindi avrà i diesis e così lo stesso ragionamento per quelle dei bemolli a parte il fa che appunto è un'eccezione non ha nulla nel nome ma i bemolli tutte le altre si bemolle mi bemolle la re bemolle re bemolle sol bemolle hanno chiaramente essendo già nel nome un bemolle avranno le dei bemolli in chiave adesso andiamo a vedere come calcolarcele utilizzando appunto questa strada questa saetta che va a metterci l'ordine dei dei diesis o dei bemolli allora io voglio calcolare la scala di re maggiore ok la cosa più semplice sarebbe questa ti spiego prima il trucchetto perché poi è quello più veloce re maggiore qual è il settimo grado di re maggiore prima del re cosa ci sta io lo alzo di un ottavo re re acuto prima cosa ci sta il do diesis l'ultima nota prima di re quindi la settima è un do in questo caso sarà diesis perché perché è l'ultimo della mia strada adesso andiamo a vedere perché io parto dal fa fa do ok trovo che è il settimo grado di di re quindi la nota la nota do è una settima poi bisogna vedere se è maggiore o minore però siamo nella scala maggiore quindi deve essere a distanza di di semitono dalla dalla sua ottava il re maggiore quindi il do che è la settima e l'ultimo è diesis ed è l'ultimo della che vado a trovare nella nella mia nella mia setta io parto sempre dal fa fa do ho trovato il do e quindi la scala di re maggiore a fa diesis e do diesis in chiave l'altro metodo che utilizzo io sempre utilizzando questo è arriviamo fino alla tonica fa do sol e re tolgo re tolgo la penultima che era il sol le alterazioni le altre note che mi rimangono sono le mie alterazioni in chiave fa e do ok questa cosa qua all'inizio può sembrare un po macchinosa in realtà poi è molto veloce facciamo un altro esempio si maggiore io devo arrivare fino a si fa do sol re la mi si tolgo il si tolgo il mi che sono l'ultima e la penultima le mie alterazioni in chiave sono fa do sol re e la ok quindi una delle scale più difficili in un attimo riesco a risalire alle alle mie alterazioni in chiave stessa cosa per cioè stessa cosa cosa simile per i bemolli nei bemolli è fatto un pochettino diverso però vado sempre a sfruttare la mia strada della saetta facciamo un esempio la bemolle maggiore io parto dalla seta appunto dal dal fondo quindi dal si perché l'ordine dei bemolli parte dal si bemolle chiaramente vado fino che raggiungo la mia nota d'arrivo quindi si mi e la chiaramente io dico simila intendendo sempre bemolli perché sto sto facendo l'ordine dei bemolli quindi si mi la bemolle in questo caso nei bemolli devo aggiungerne 1 prima ne avevo tolto e non avevo calcolato quello in questo caso calcolo la bemolle e ne aggiungo 1 si mi la e bemolle quindi la scala di la bemolle maggiore a quattro alterazioni in chiave che devono essere scritte chiave di basso da sinistra verso destra nell'ordine si mi la e re ok vanno sempre fatte così da qua possono venirti adesso poi alcune domande quello che e dubbi soprattutto quello che ti consiglio di fare è prova prenditi a caso una scala una una nota piuttosto che un'altra e vatti a cercare vedi se te le trovi con questo modo e se ti torna tutto la scala che faceva eccezione era il fa perché nel nome non aveva nulla ma non è diesis come tutte le altre quindi la scala di fa maggiore andiamo a trovarci a col vecchio metodo e così ti spiego anche che questo vecchio metodo comunque può funzionare ed è anche un metodo valido per trovarsi le alterazioni in chiave solo che spesso non sono poi nell'ordine che è quello invece della della saetta se devo scriverli allora per trovare fa maggiore vado alla nota fa tasto 8 corde di la e vado ad applicare la mia posizione che avevamo visto nell'altro video 2 4 1 2 4 1 3 4 e vado quindi a suonarmela andiamo ad analizzare poi le note quindi perché bisogna fare quello fa sol la si bemolle che è il quarto grado do re mi naturale e fa quindi la scala di fa maggiore a si bemolle in chiave quindi soltanto un bemolle in chiave questa la calcolo così perché non rientra nel nel mio nel mio ragionamento della della saetta nei bemolli o dei diesis però chiaramente posso calcolare qualunque scala in questo modo prendiamo ad esempio il la maggiore io la faccio la mia posizione 2 4 1 2 4 1 3 4 vado a vedere che noto suonato la si do diesis ok prima alterazione re mi fa diesis seconda alterazione sol diesis e la in questo caso le mie alterazioni in chiave sono fa diesis scusami do diesis fa diesis e sol diesis però senti che l'ordine non è quello di prima dell'ordine dei diesis quindi io da lì devo poi riformularle e metterle in ordine se voglio scriverle perché l'ordine comunque tre diesis in chiave deve essere fa do sol cioè sempre torniamo alla mia saetta iniziale che ti consiglio di provare a memorizzare cioè non memorizzare devi guardartela sul basso e provare a ricavartela e vedrai che ogni volta che calcoli una scala maggiore nuova ti fai questo ragionamento all'inizio ci metterai un po di più poi se hai capito come funziona ci metterai molto molto di meno secondo me e quindi penso che sia una cosa utile fammelo sapere qui sotto nei commenti se ti vengono dei dubbi delle perplessità mi raccomando scrivime sotto nel limite delle mie conoscenze spero di poter riuscire a risponderti in maniera soddisfacente e noi ci vediamo poi al prossimo video allora dove andremo magari a mettere in pratica qualcosa di quello che abbiamo parlato oggi grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao carlo